E' gol, gol del Correggio che fa la Bologiara, giocatori, allenatori di questa squadra. Correggio, sigla il raddoppio in questo momento e time out chiesto dal Giovinazzo. C'è bisogno di ossigeno in questa squadra perché giocare 50 minuti è gol, gol a diantezza che accorce le distanze. E questo è il gol d'autore. Inizioni di prima, vediamo chi avrà la meglio, se il portiere per il giovine o il giocatore correggese. Tutto pronto, parte. Gol di Nadini che porta a tre le reti per il Correggio. E' gol, gol di Sinisi. Gol di Sinisi che porta a due le reti del Giovinazzo. E' gol, gol per il 4 a 2 del numero 3 Aguilar. E' gol di Antezza, accorce Antezza, 4 a 3. E' subito in contropiede, Nadini, Nadini e gol, gol di Nadini che porta a 5 le reti. Il Giovinazzo, ma Nadini passa a Pablo Iara, tira e segna Pablo Iara. Grazie a tutti.